Il principe William e Kate, duchessa di Cambridge, hanno segnalato il loro sostegno a Camilla con un gesto discreto, la regina ha annunciato ieri che è suo sincero desiderio che Camilla, duchessa di Cornovaglia, prenda il titolo di regina consorte quando il principe Carlo diventa re. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno rituitato il post della famiglia reale, che includeva l'annuncio della regina. Senza commentare la questione, la coppia ha anche ricondiviso la notizia come una storia pubblicata sul loro account Instagram congiunto, rispondendo alla mossa su Twitter, gli osservatori reali hanno notato che il principe William ha accettato Camilla. Un utente, soprannominato Poia, ha scritto, Camilla se lo è guadagnato. Supporta bene Charles ed è una giocatrice di squadra nella famiglia reale, a differenza di me ancora. Il principe William avrebbe potuto facilmente servare rancore, ma ha accettato Camilla e quindi dovrebbe farlo anche il pubblico. Diana era adorabile, ma non era nemmeno esente da colpe. Cancelletto Camilla. Un altro utente, chiamato Royal Imposters, ha aggiunto, se il principe William, il figlio della principessa Diana, riesce ad accettare Camilla, allora dovrebbe farlo anche il pubblico, ma un terzo utente ha messo in dubbio la sua decisione di non commentare la questione, scrivendo, perché il principe William è tranquillo nel fare Camilla come regina. Hanno aggiunto, il principe William dovrebbe ribellarsi. Cancelletto Camilla. Cancelletto Camilla. Cancelletto Camilla.